Ancora Malmantile che prova a imbastire quest'azione, va al cross e c'è la rete, la rete su deviazione dopo una deviazione del difensore centrale del Vaianese, in particolare di Capuano, il pallone finisce in rete e dunque passano in vantaggio gli ospiti con il gol arrivato subito nei primi minuti di gioco da parte del Malmantile. Intanto è ripartita subito con Bossa On, lanciato, va subito al tiro, una botta di destro, risposta pronta però da parte di Nozzoli. Attenzione qua c'è Bossa On, lanciato, segna l'1-1, porta subito in parità la Vaianese dopo appena tre minuti dall'inizio del secondo tempo. Bossa On riapre i giochi dopo un passaggio che è riuscito a bucare la difesa del Malmantile. Grazie a un'autorete, tanto pallone messo dentro e c'è il 2-1, ribalta tutto, la Vaianese trova il gol sul calcio d'angolo e la palla finisce in rete, dunque passano in vantaggio i padroni di casa. Grazie al gol è arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la Vaianese può ripartire, la Vaianese con Dumbia prestato solo da Zingoni, sta risalendo anche i compagni di squadra. Scatto di Dumbia a tu per tu con il portiere, può ripartire da solo, è lanciato in contropiede il numero 18 e segna il 3-1, il gol di Alfonso Risi che chiude così i conti. 3-1 per la Vaianese che con questo gol quasi sicuramente, molto probabilmente ha siglato la sua permanenza in prima categoria. Direttamente in area a cercare Ghelli, va alla battuta del calcio d'angolo e c'è il gol del 3-2, arriva e raccolcia le distanze, Zingoni su calcio d'angolo.